Era la culla della civiltà marinara, la via in cui le donne riparavano le reti attorno alla fontana. Oggi la fontana è rimasta un cimelio che nemmeno eroga acqua, una copia sbiadita di un passato glorioso che non c'è più, sostituito da topi, siringhe e immondizia. Siamo in via Laberinto e via Gallo a pochi passi dal corso di San Benedetto. Tra case fatiscenti, regno delle pantegane e zone d'ombra in cui si affollano tossicodipendenti, non c'è pace per i pochi residenti. Buongiorno, ci scusi, lei abita o lavora da queste parti? Io lavoro qui al Corriere. Che ne pensa di queste case fatiscenti in pieno centro città? È un bel problema questo perché dura da troppi anni e questa è una parte storica, antica e poco curata forse. Infatti ci sono molti disagi qui per quanto riguarda il decoro urbano. Ma ci parlavano anche di topi che girano in zona, ne sa nulla, ne ha visto qualcuno? C'è un po' di tutto, ci sono anche grosse pentecane, un po' di immondizia, troppa sporcizia, però insomma abbiamo sollecitato chi di dovere sperando che prima o poi riescano a intervenire per mettere a posto le cose. Ci sono i topi qui? Sì, sì. Sì, c'è. È un problema per voi? Se c'è entra in casa, che facciamo? Possiamo più di questa storia, di queste baracche che stanno qui e non riusciamo più a spuntare, a venirne fuori. Possiamo più aprire la porta di casa e non ce la facciamo più. Siamo molto imbauriti che ci possa entrare nelle case. L'altro anno è entrato un topo in casa, fortunatamente me ne sono accorta in tempo e non lo abbiamo scacciato, però lei capisce, la paura è stata tanta. Sono andata due volte in comune, la prima volta dice che si erano sbagliati, la seconda volta ha detto adesso ci pensiamo noi, non si preoccupi, però non abbiamo visto nessuno. Il centro storico è un peccato perché la via più vecchia di San Benedetto è tanto rinomata, però a questo punto insomma c'è proprio degrado, perché le case sono 3-4 anni, ma anche più, che stanno in queste condizioni come le vedete adesso e i topi ballano là dentro. Il nostro cameraman ha trovato la porta aperta di un'abitazione e dall'esterno ha potuto sbirciare il degrado in cui versano queste abitazioni, protette solo da un'impalcatura che i topi, come si vede in questo video realizzato da alcuni residenti, fanno subito ad aggirare.